buongiorno a tutti e tutte ciao davide buongiorno iniziamo subito con la terza puntata del tg sherwood ne avevamo discusso ampiamente nella scorsa edizione di un'assemblea che si è tenuta a roma sabato scorso un'assemblea che ha visto partecipare tantissime realtà antirazziste da ogni parte d'italia ebbene questa assemblea ha partorito una grande manifestazione una manifestazione importantissima nazionale che si svolgerà a roma il prossimo 10 novembre alla cui piattaforma si chiama uniti e solidali contro il razzismo e il decreto salvini questa manifestazione coglie sicuramente un'urgenza e quella di una presa di parola collettiva per sovvertire quel corso reazionario all'interno del quale ci troviamo sia in italia sia nel resto di europa e parte quindi dal basso una sfida al governo una sfida fatta dai movimenti antifascisti antirazzisti antisessisti tra i punti della piattaforma anche la solidarietà a mimmo lucano e per tornare a parlare di mimmo lucano anche questo è stato un tema della scorsa edizione del tg sherwood ricordiamo il fatto che durante la settimana scorsa mimmo e riace sono stati protagonisti dell'ennesimo attacco politico istituzionale da parte del ministro dell'interno salvini infatti c'è stata una deliberazione del scorso 9 ottobre con questa il dipartimento immigrazione del ministero dell'interno ha ordinato la chiusura dei progetti di solitarietà esistenti a riace con questa anche il trasferimento di tutti i migranti che vivono ancora in quel territorio entro 60 giorni si contestano un po diversi strumenti sia quelli di mutualismo come ad esempio quello dei bonus le borse lavoro ma anche l'accoglienza di fatto ai rifugiati in condizioni di vulnerabilità che significa significa quelli che sono ospitati oltre il termine previsto dal progetto sprar ma questa settimana e anche la scorsa sono state caratterizzate anche da iniziative importanti iniziative di solidarietà ad esempio c'è stata una risposta collettiva molto forte a quello che è successo all'Odi per ricapitolare all'Odi l'amministrazione comunale che è un'amministrazione comunale leghista ha di fatto costruito all'interno delle scuole un meccanismo di apartheid negando una serie di servizi ai bambini figli di migranti tra cui la mensa e anche altri servizi c'è stata una gara di solidarietà una gara di solidarietà spontanea che si è conclusa con una raccolta fondi di 60 mila euro in pochissimi giorni quindi è un segno evidente che in questo paese esista ancora un corpo collettivo un tessuto che è un tessuto solidale un tessuto antirazzista e da proprio queste iniziative bisogna è necessario ripartire proprio per sovvertire come dicevamo all'inizio questo corso reazionario c'è stata inoltre un'altra bella risposta alla deriva xenofoba ma soprattutto la deriva sessista a cui stiamo assistendo e sabato scorso c'è stata una grandissima manifestazione anche questa l'avevamo annunciata nello scorso TG Sherwood a Verona organizzata e promossa dalla realtà di non una di meno locale ma anche nazionale ha visto la presenza di migliaia di persone scendere in piazza per difendere il diritto all'aborto e soprattutto per contrastare quel dispositivo messo in campo dal comune di Verona che di fatto volendo dichiarare Verona come città della vita finanzia associazioni anti abortiste in maniera istituzionale per cui la risposta è stata una risposta eccezionale c'è stata una presa di parola pubblica fondamentale da parte dei movimenti femministi ma da parte di tutte le persone che vogliono contrastare appunto questa deriva e ci ascoltiamo adesso quello che dice Laurella che è una delle storiche attiviste trans di Verona che fa parte della rete non una di meno è una Verona antifascista questa qui è la risposta che io da 70 anni volevo vedere a Verona guardate quanti siamo siamo non una di meno come dice la parola siamo tutti siamo tutte e partiamo dal femminismo partiamo dal fran femminismo partiamo dalla storia per andare a riappropriarci nelle vie le piazze di Verona sotto il segno dell'antifascismo sotto il segno dell'antisascismo siamo tornati in studio e passiamo al secondo argomento del Tg Sherwood e parliamo di fogli di via in queste settimane appunto sono stati notificati sei fogli di via ad altrettanti compagni dei centri sociali del nord est questi provvedimenti fanno riferimento alla manifestazione del 17 luglio del 2017 quando in centinaia di persone abbiamo tutti quanti insieme bloccato la manifestazione di forza nuova e di altri gruppi di estrema destra che da tutto il Veneto si sono ritrovati per per continuare a scandire quelle parole d'odio e di razzismo che sono solito fare questa dei fogli di via è una problematica davvero complessa è anche una problematica abbastanza paradossale di quello che è l'ordinamento giuridico attuale sembra un po' di essere tornati al periodo medievale quando le persone che facevano qualcosa di male all'interno delle comunità venivano appunto messe al bando e quindi allontanate dalla dalla loro comunità e poi appunto al di fuori della loro comunità si mettevano insieme e creavano queste bande addirittura poi qualcuno parlava di banditi sociali ecco i nostri forse sono proprio dei dei banditi sociali anche perché lunedì c'è stata proprio una conferenza stampa a Palazzo Moroni a Padova in cui 5 dei 6 compagni che hanno ricevuto questi fogli di via hanno ovviamente detto che non sottostaranno a questa assurda violazione quindi strapperanno questi fogli di via e continueranno a venire a Padova il foglio di via è un provvedimento amministrativo che è stato emanato da un decreto legge nel 2011 che appunto vieta delle persone di vivere in un luogo ma anche di passare di attraversare quel luogo la particolarità sta che non c'è nessun processo quindi è un provvedimento preventivo perché quella persona può arrecare danni a cose o persone all'interno di quella città addirittura nel febbraio del 2017 la Corte Europea dei Diritti Umani ha proprio detto che queste misure sono incompatibili con i diritti umani e con la convenzione dei diritti umani proprio perché negare a una persona, negare a un individuo la possibilità di attraversare un territorio la possibilità di vivere in un territorio è una roba davvero allucinante questa dei fogli di via ovviamente non è una piaga tra virgolette che c'è soltanto qui a Padova nel nord-est ormai dal 2011 i fogli di via sono stati utilizzati come mezzo repressivo in tutte le realtà in cui c'è del conflitto in tutte le realtà in cui ci sono delle lotte un esempio eclatante è quello della Val di Susa dove fioccano ormai i fogli di via in maniera importante da un punto di vista politico ovviamente questi sono dei provvedimenti che indeboliscono le lotte ma quello che dicevo proprio all'inizio sono dei provvedimenti che violano le più banali e le più semplici libertà individuali delle persone di attraversare i territori, di vivere all'interno dei territori perché una persona non può stare in un territorio soltanto se ci lavora, se ci studia o per altri motivi ma può benissimo andare a Padova o in qualunque altra città per qualunque tipo di motivo lunedì è stata come dicevo poc'anzi fatta questa conferenza stampa in cui sicuramente da Padova partirà un forte appello, un accorato appello affinché si faccia una vera e propria campagna nazionale contro questi provvedimenti questi provvedimenti non soltanto di Padova ma proprio a livello nazionale perché bisogna, visto che lottiamo quotidianamente per le nostre libertà individuali anche quella dei fogli di via sarà una battaglia che porteremo avanti in maniera forte e convinta adesso ascoltiamo appunto un estratto della conferenza stampa di lunedì scorso e ritorniamo in studio sono stati consegnati dei fogli di via da Padova, un gesto completamente inaccettabile diciamo fin da subito questi provvedimenti li ricettiamo con forza questi provvedimenti verranno assolutamente presi come carta straccia e non violeremo ogni volta che è necessario questi provvedimenti allora ci troviamo in un sistema in cui un dispositivo di tipo amministrativo viene dichiarato non compatibile con la convenzione dei diritti umani e però questo dispositivo viene ampliato, viene potenziato e viene fornito di nuove modalità di attuazione vi aggiungo schematicamente tre o quattro cose che spero spieghino come mai non ho la minima intenzione di obbedire a questo provvedimento della questura di Padova a partire chiaramente da oggi rivendico fino in fondo quello che è successo sono organizzazioni neonaziste ciò di razzismo, intolleranza, apologia del razzismo, apologia del fascismo la discriminazione naziale è il loro pane quotidiano chi doveva fermarli non eravamo noi il problema del quel 17 luglio è che non dovevamo essere noi a fermarli quello che è stato fatto con grande generosità da parte di quelle centinaia e centinaia di persone che sono scese in piazza quel 17 luglio merita forse un encomio e continuiamo a parlare di Veneto domenica scorsa si è tenuta a Trissino Trissino sapete che è la sede di una delle fabbriche più inquinanti d'Europa la Miteni la Miteni che è responsabile dei versamenti nelle falde acquifere che stanno avvelenando tre province del Veneto ebbene in questa ridente cittadina del Vicentino c'è stata l'inaugurazione del leone della statua del leone di San Marco più grande del mondo si tratta di un leone di vetroresina è una inaugurazione fatta in pompa magna addirittura ci sarebbe dovuto essere il governatore del Veneto Luca Zaia il comune si è speso tantissimo sono stati destinati tantissimi soldi pubblici alla cosa costruiti i comitati per questa inaugurazione insomma una vera buffonata fortunatamente c'è chi ha contestato l'iniziativa perché erano presenti in una sorta di controinaugurazione anche i comitati in Opfas che da anni sono attivi non solamente nel territorio di Trissino ma anche in altri comuni della provincia e delle province limitrofe c'erano anche altri attivisti di comitati veneti che lottano per la difesa dell'ambiente e dei beni comuni bene questa controinaugurazione sostanzialmente ha messo in rilievo due aspetti beh innanzitutto c'è stata la volontà da parte del comune di Trissino di contenere questa manifestazione di renderla invisibile di non farli nemmeno avvicinare al luogo dove si è tenuto l'evento addirittura sono state messe transenne per contenere i manifestanti e c'erano la celere c'era i carabinieri in assetto antisommossa insomma sembrava una vera e propria giornata dove si attendeva guerriglia in realtà i manifestanti erano molto pacifici hanno espresso in maniera chiara quali fossero le contraddizioni e in particolare la contraddizione legata a Luca Zaia alla Lega ricordiamo anche che Luca Zaia non è arrivato alla inaugurazione evidentemente temeva proprio le contestazioni ebbene quello che è stato sollevato è il fatto che la Lega da un lato cerca di difendere questa autonomia in forma simbolica rappresentata da questo grande leone di San Marco dall'altro lato non difende l'autonomia vera quella che è fatta di lotte che vogliono liberarsi dall'inquinamento dalle devastazioni ambientali da tutte quelle che sono le caratteristiche di un modello di sviluppo che è sempre più incentrato sulla questione delle grandi opere sulle fabbriche che inquinano e su tutti questi aspetti che poi negano di fatto la qualità della vita di un territorio e dei suoi cittadini andiamo ad ascoltare alcuni pezzi alcuni momenti salienti della manifestazione ricordiamo il fatto che i manifestanti hanno fatto anche una caserolata un po' con le pentole queste pentole poi che sono fatte ricordiamo di un materiale che è quello prodotto dalla Miteni un materiale altamente inquinato sono state restituite al mittente sono state gettate all'interno della fabbrica c'è stata anche un'azione simbolica fatta dagli attivisti con la maschera dei leoni che hanno imbrattato con lo sterco l'ingresso della fabbrica per cui è stata una giornata molto divertente adesso ci godiamo il video con alcuni spezzoni della giornata perché sono così zelanti nei confronti dei manifestanti oggi e mettere delle transenne intorno al presidio e l'ordine di bonifica della Miteni non è ancora stato eseguito? Lei chiede anche la chiusura immediata e la bonifica della Mitelli, quindi chiedo ai Leoni e a tutti coloro che hanno portato oggi le ventole antiaderenti di riconsegnarle al Mitelli. Siamo tornati in studio, abbiamo parlato di due manifestazioni che ci sono state nel nostro territorio, nel territorio Veneto, volevo anche sottolineare due manifestazioni che ci sono state in Europa, in territorio europeo, e sono state due grandi manifestazioni che si contrappongono a tutto quel periodo che stiamo vivendo, pieno di odio e di nuovo fascismo. Infatti a Berlino c'è stata una grossissima manifestazione dove decine di migliaia di antirazzisti sono scesi in piazza. Addirittura 250 mila. Esatto, esatto, quindi veramente numeri davvero grossi e questo sicuramente sono dei numeri che danno speranza, che danno tanta speranza. E anche a Londra una manifestazione antifascista in questo caso, perché gruppi di estrema destra vicini anche agli ambienti degli hooligans e degli ultras inglesi si erano dati appuntamento proprio a Londra per manifestare lungo la città e quindi per continuare a marciare con le loro parole d'odio. Anche in questo caso gli antifascisti si sono incontrati tutti quanti insieme e dopo quattro ore di contropresidio sono riusciti a bloccare la manifestazione e quindi i fascisti non sono neanche partiti dal loro luogo di appuntamento. Quindi queste sono sicuramente due manifestazioni molto importanti, due manifestazioni che ci fanno vedere che in tutta Europa i movimenti antirazzisti, i movimenti antifascisti sono vivi e stanno rispondendo colpo su colpo a questo clima d'odio che c'è in tutta Europa. Per rimanere sempre in ambito internazionale, in questi giorni da martedì scorso fino a sabato prossimo avremo ospiti sia in Veneto ma anche in Emilia Romagna, nelle Marche, degli esponenti della comunità Mapuche. Infatti ci saranno degli incontri sia a Vicenza, a Treviso, a Iesi e Ferrara e comunque potete trovare tutte le informazioni sul profilo Facebook di Abasta e di Besè. Verranno quindi a raccontarci un po' di quella che è la situazione attualmente in Patagonia. Una situazione molto simile per tanti aspetti a quello che stiamo vivendo in Italia ma anche in Europa, ossia quella del capitalismo estrattivo che ormai sta pervadendo totalmente le nostre vite. Un capitalismo che viene incarnato da quelle grosse multinazionali che speculano sulle vite dei singoli individui ma anche sui territori. E' multinazionale che ovviamente in Patagonia prende il nome di Benetton che sta assolutamente distruggendo quei territori e sta anche distruggendo le vite di quelle persone che stanno combattendo, che combattono giorno per giorno per difendere il territorio in cui vivono. Ci saranno quindi questi appartenenti alla comunità Mapuce che ci racconteranno un po' quella che è la situazione. Continueranno a chiedere giustizia per quegli assassini e per i desaparecidos come per esempio Maldonado su cui ancora non è stata fatta chiarezza e giustizia e quindi vi invitiamo a partecipare a questi incontri. Stasera invece qui a Padova ci sarà un interessantissimo dibattito e ci sarà anche una proiezione, proiezione che è già stata fatta in tante altre città ma la particolarità appunto che ci sarà un interessantissimo dibattito. La proiezione è quella del film che racconta la storia, gli ultimi giorni nella vita di Stefano Cucchi, quindi la proiezione del film Sulla mia pelle. A seguire ci sarà un dibattito dove saranno presenti Rossanna Norris dell'associazione Stefano Cucchi, l'avvocato Fabio Anselmo e avremo il piacere anche di avere in diretta Skype la sorella di Stefano. Appuntamento che diventa ancora più importante dopo gli ultimi risvolti giudiziari e dopo le ammissioni da parte del carabiniere che ha detto sì c'è stato un pestaggio. Noi già lo sapevamo ma adesso sicuramente le verità processuali verranno fuori e ci sarà giustizia per Stefano. Con questo vi salutiamo e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!